Né con né contro. Fabrizio Di Stefano, candidato presidente per Civiche per l'Abruzzo, ha deciso di abbandonare la corsa alla regione, ma non il progetto da lui guidato, destinato a diventare un'associazione da affiancare alla Fondazione Cantiera Abruzzo. Le critiche al candidato presidente Marco Marsilio restano e, scrive Di Stefano nella nota che ufficializza la decisione, il progetto guidato dal senatore di Fratelli d'Italia continua a non convincerlo. D'altro canto, lo stesso Di Stefano non ha voluto correre il rischio di diventare il capro espiatorio nel caso di una sconfitta di Marsilio, all'indomani del voto del 10 febbraio. Da qui la scelta del ritiro e della libertà di voto per quanti lo hanno sostenuto. Questo il commento di Marco Marsilio intercettato da Paolo Renzetti nel Comitato Pescarese di Azione Politica. Apprezzo il fatto che non si voglia prestare a strumentalizzazioni o a fare l'utile idiota della sinistra come è accaduto in altre regioni o in altre città in cui candidature alternative ma marginali opposte al candidato di centrodestra servono solo ad aiutare i nostri avversari a vincere. Vincere sulle critiche, questo è un mio dovere, quello di dimostrare con i fatti, con i programmi, con questi giorni di campagna elettorale di essere all'altezza di questa candidatura. Ora cercherete, come si suol dire, di recuperare, di portare dalla vostra parte i voti delle civiche che erano al fianco di Fabrizio Di Stefano. Ci sono persone che hanno per diverse settimane preparato una loro candidatura, una corsa per portare il loro contributo alla regione Abruzzo. Da questo punto di vista siamo a braccia aperte. Sulla stessa linea di pensiero di Marsilio anche Gianluca Zelli, leader di azione politica, che a lungo aveva sostenuto la bontà della candidatura di Di Stefano, salvo poi optare per l'appoggio a Marsilio. È chiaro che lui ha iniziato una battaglia che per la sua coerenza non poteva concludere, però non ci trova come oramai, è chiaro a tutti, insomma, non ci trova d'accordo perché in una squadra bisogna anche sapere accettare le differenze e cercare di ognuno di smussare le proprie peculiarità per cercare di trovare un'idea comune. Oggi Marco, secondo me, è il candidato ideale. Alla vigilia della presentazione delle liste, la squadra di azione politica è al completo, annuncia Zelli, pronto al rush finale della campagna elettorale. Le nostre liste sono veramente complete di amministratori locali, quindi quello che volevamo, e di professionisti e quindi adesso faremo un evento importante per presentarle tutte insieme. Siamo addirittura d'arrivo per una fase molto importante, ma poi subito pronti per iniziare un'altra, che è quella della campagna elettorale.